La salvezza di Dio non viene dalle cose grandi, dal potere o dai soldi, dalle cordate clericali o politiche, ma dalle cose piccole e semplici, è quanto ha detto Papa Francesco durante la messa del mattino celebrato nella cappella di casa Santa Marta. Papa Francesco ha incontrato questa mattina in Vaticano il patriarca della chiesa ortodossa Tevahedo di Etiopia, Abuna Mattias I, accompagnato da una delegazione. La visita del patriarca, sono le parole di Papa Francesco, rafforza i legami fraterni come già uniscono le nostre chiese. Anche nell'appuntamento settimanale dell'Angelus di ieri, Papa Francesco ha proposto la sua riflessione a partire dal Vangelo di Luca, tratto dalla liturgia della parola della terza domenica di Quaresima. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Santo Padre ha rivolto il suo pensiero ai profughi che fuggono da guerre e altre situazioni disumane, chiedendo a tutte le nazioni di collaborare con la Grecia e gli altri paesi che in prima linea stanno prestando loro un generoso soccorso. Non c'è etica del fare impresa che tenga né discussioni alte sui valori del lavoro se esse non sono in grado di dare una risposta a un padre di famiglia angosciato per non riuscire ad assicurare un futuro e nemmeno un presente ai propri figli. Così Papa Francesco, sabato mattina, ricevendo per la prima volta nella sua storia la Confindustria italiana. E sempre sabato mattina nel Palazzo Apostolico Vaticano, Papa Francesco ha ricevuto il Presidente della Repubblica Argentina, Maurizio Macri, che poi ha incontrato il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. Sabato mattina Papa Francesco si è recato nella chiesa di Santo Stefano degli Abissini per sostare in preghiera di suffragio per la defunta Miriam Voldu, la giovane italiana di origine Eritrea che lavorava alla reception a Casa Santa Marta, dimostrando per lei il suo affetto e il suo rispetto per questa cara collaboratrice. Papa Francesco ha visitato venerdì pomeriggio a sorpresa la comunità di recupero per tossicodipendenti San Carlo del Centro Italiano di Solidarietà, il CEIS, fondato da Don Mario Picchi. Si è trattato di un altro segno giubilare di testimonianza delle opere di misericordia per l'anno santo in corso. La strada per la salvezza non è nel potere, nelle cordate clericali o politiche, ma nella semplicità delle cose di Dio. Papa Francesco lo ha ricordato questa mattina nell'Omelia della Messa celebrata a Casa Santa Marta, commentando le letture del giorno che ci parlano dello sdegno. Si sdegna un lebroso, Naman il Siro, che chiede al profeta Eliseo di guarirlo, ma non apprezza il modo semplice in cui questa guarigione dovrebbe avvenire. E si sdegnano gli abitanti di Nazareth di fronte alle parole del loro conterraneo Gesù. È lo sdegno di fronte al progetto di salvezza di Dio che non segue i nostri schemi. Non è come noi pensiamo sia la salvezza, quella salvezza che tutti noi vogliamo. Gesù sente il disprezzo dei dottori della legge che cercavano la salvezza nella casistica della morale e in tanti precetti, ma il popolo non aveva fiducia in loro. O i saducei che cercavano la salvezza nei compromissi con i poteri del mondo, con l'impero, e uno con le cordate chiericali, l'altro con le cordate politiche, cercavano la salvezza così. Ma il popolo aveva fiuto e non credeva. Si credeva in Gesù perché parlava con autorità. Ma perché questo sdegno? Perché nel nostro immaginario la salvezza deve venire di qualcosa grande, di qualcosa maestosa. Solo ci salvano i potenti, quelli che hanno forza, che hanno soldi, che hanno potere. Questi possono salvarci. E il piano di Dio è altro. si sdegnano perché non possono capire che la salvezza soltanto viene dal piccolo, dalla semplicità delle cose di Dio. E quando Gesù fa una proposta della via di salvezza, mai parla di cose grandi, cose piccole. Papa Francesco ha incontrato questa mattina in Vaticano il patriarca della chiesa ortodossa Tevaedo di Etiopia, Abuna Mattias I, accompagnato da una delegazione. La visita di vostra santità, sono le parole di Papa Francesco, rafforza i legami fraterni che già uniscono le nostre chiese. Dal 2004, la chiesa cattolica e le chiese ortodosse orientali hanno cercato insieme di approfondire la loro comunione attraverso il dialogo teologico portato avanti dalla Commissione Internazionale Congiunta. Siamo felici di constatare la crescente partecipazione della chiesa ortodossa etiope Tevaedo a questo dialogo. Nel corso degli anni, ha ricordato il Papa, la Commissione ha esaminato il concetto fondamentale di chiesa comunione, intesa come partecipazione alla comunione tra padre, figlio e spirito santo. In tal modo abbiamo scoperto che abbiamo quasi tutto in comune, una sola fede, un solo battesimo, un solo Signore e Salvatore Gesù Cristo. Siamo uniti in virtù del battesimo che ci ha incorporati nell'unico corpo di Cristo. Papa Francesco, ricordando le parole dell'Apostolo Paolo, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui, ha sottolineato come le sofferenze condivise hanno fatto sì che i cristiani, altrimenti divisi in molti aspetti, si avvicinassero maggiormente gli uni agli altri. Nello stesso modo in cui lo spargimento del sangue dei martiri è diventato il seme di nuovi cristiani nella chiesa primitiva, oggi il sangue di così tanti martiri appartenenti a tutte le chiese diventa seme dell'unità dei cristiani. L'ecumenismo dei martiri è un invito rivolto a noi qui e adesso a percorrere insieme il cammino verso un'unità sempre più piena. La vostra è stata una chiesa di martiri fin dal principio e ancora oggi siete testimoni di una violenza devastante contro i cristiani e contro le altre minoranze in Medio Oriente e in alcune parti dell'Africa. Francesco una volta di più si è quindi rivolto a coloro che reggono le sorti politiche ed economiche del mondo in modo tale da promuovere una coesistenza pacifica basata sul rispetto reciproco e sulla riconciliazione, sul mutuo perdono e sulla solidarietà. Ampio è lo spazio per la collaborazione tra le chiese a favore del bene comune e della salvaguardia del creato e non dubito, ha detto il Papa, della disponibilità della chiesa cattolica di Etiopia a lavorare insieme alla chiesa ortodossa Tevahedo che vostra santità presiede. Concludendo il suo discorso, Francesco ha ribadito come si sia consapevoli che la storia ha lasciato un fardello di dolorosi malintesi e di diffidenza per il quale chiediamo il perdono e la guarigione di Dio. Preghiamo gli uni per gli altri invocando la protezione dei martiri e dei santi su tutti i fedeli affidati alle nostre cure pastorali. L'invocazione finale del Santo Padre è stata allo Spirito Santo e a Maria, Madre di Misericordia, prendendo spunto dalla liturgia ortodossa Tevahedo, ha rivolto la sua preghiera per ciascuno dei presenti. A fine mattinata Papa Francesco ha ricevuto i carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro accompagnati dal Comandante Generale dell'Arma. Nel ringraziare per quanto i carabinieri svolgono con un servizio impegnativo e indispensabile reso alla comunità, spendendo le proprie energie per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico in collaborazione con le altre forze, Francesco ha ricordato come la presenza sul territorio divenga tramite della concreta solidarietà dell'intera comunità. In particolare, ha ricordato il Pontefice, le persone svantaggiate possono trovare un prezioso aiuto nelle loro difficoltà. Il Papa ha ricordato ancora come in collaborazione con i competenti organismi della Santa Sede i carabinieri favoriscano il tranquillo svolgimento degli eventi che nel corso dell'anno si tengono in Piazza San Pietro e nei dintorni. Quella dell'Arma è un'attività che richiede professionalità e senso di responsabilità come anche attenzione alle persone, molte delle quali sono anziane, continua pazienza e disponibilità verso tutti. Non è mancato poi un riferimento all'Anno Santo della Misericordia che apre a tutti la possibilità di essere rinnovati a partire da una purificazione interiore che si riflette nel modo di comportarsi e anche nell'esercizio delle attività quotidiane. Il Giubileo, sono ancora le parole del Papa, diventa in tal modo un'occasione propizia di verifica personale e comunitaria e il paradigma su cui verificarsi sono le opere di misericordia, sia corporali che spirituali. L'insegnamento di Gesù sia di guida anche a voi, responsabili della tutela dell'ordine pubblico e vi aiuti ad essere in ogni circostanza promotori di solidarietà, specialmente verso i più deboli e indifesi, ad essere custodi del diritto alla vita attraverso l'impegno per la sicurezza e per l'incolumità delle persone. Concludendo, il Papa ha espresso nuovamente ai presenti la sua gratitudine per l'apprezzato servizio e la collaborazione con la Santa Sede e ha affidato alla Materna Protezione della Madonna, la Virgo Fidelis, quanto ogni giorno i carabinieri sono chiamati ad operare. Anche nell'appuntamento settimanale dell'Angelus di ieri, Papa Francesco ha proposto la sua riflessione a partire dal Vangelo di Luca, tratto dalla Liturgia della Parola della Terza Domenica di Quaresima. Se ogni giorno ha osservato Francesco le cronache riportano notizie brutte, omicidi, incidenti, catastrofi, non dobbiamo cadere nella mentalità superstiziosa di attribuire a Dio la responsabilità di fatti tragici e pensare che le vittine abbiano meritato il suo castigo e chi venga risparmiato dalla disgrazia debba sentirsi a posto, come insegna Gesù quando nel Vangelo di Luca accenna due fatti tragici che a quel tempo avevano suscitato molto scalpore. Gesù rifiuta nettamente questa visione perché Dio non permette le tragedie per punire le colpe, e afferma che quelle povere vittime non era affatto peggiori degli altri. Gesù piuttosto invita a ricavare dai fatti dolorosi un ammonimento che riguarda tutti perché tutti siamo peccatori e ci porta a riflettere che idea di Dio ci siamo fatti, siamo proprio convinti che Dio sia così o quella non è piuttosto una nostra proiezione, un Dio fatto a nostra immagine e somiglianza. Gesù al contrario ci chiama a cambiare il cuore. A fare una radicale inversione nel cammino della nostra vita, abbandonando i compromessi con il male e questo lo facciamo tutti, è un compromessi con il male. Le ipocrisie, ma io credo che quasi tutti ne abbiamo almeno un pezzetto di ipocrisia per imboccare decisamente la strada del Vangelo. Ma ecco di nuovo la tentazione di giustificarci. De che cosa dovremmo convertirci? Non siamo tutto sommato brava gente? Quante volte abbiamo pensato questo? Ma tutto sommato io sono un bravo, io sono una brava. E non è così, eh? non siamo dei credenti, anche abbastanza praticanti. Purtroppo, ha sottolineato il Papa, noi somigliamo a un albero sterile da anni e dobbiamo essere grati a Gesù, simile a quel contadino che nel racconto evangelico ottiene dal suo padrone ancora una proroga per il fico infecondo. L'invincibile pazienza di Gesù e la sua irriducibile preoccupazione per i peccatori come dovrebbero provocarci all'impazienza nei confronti di noi stessi. Non è mai troppo tardi per convertirsi, mai, ma è urgente. Incominciamo oggi. Nei saluti finali Francesco ha ricordato la giornata delle malattie rare che ricorre oggi assicurando una preghiera speciale e un incoraggiamento alle associazioni che se ne occupano presenti in piazza San Pietro. Dopo la preghiera dell'Angelus, Papa Francesco ha rivolto il suo pensiero ai profughi che fuggono da guerre e altre situazioni disumane, ricordando che questi sono sempre presenti nella sua preghiera, ha confidato Francesco e chiedendo a tutte le nazioni di collaborare con la Grecia e gli altri paesi che in prima linea stanno prestando loro un generoso soccorso. Una risposta corale può essere efficace e distribuire equamente i pezzi. Per questo occorre puntare con decisione e senza riserve sui negoziati. Il pensiero di Francesco è andato poi alle speranze riposte nella cessazione delle ostilità in Siria. Invito tutti a pregare affinché questo spiraglio possa dare sollievo alla popolazione sofferente, favorento i necessari aiuti umanitari e apre la strada al dialogo e alla pace tanto desiderata. E ancora il Papa ha espresso vicinanza al popolo delle isole Fiji duramente colpito da un devastante ciclone la scorsa settimana. Prego per le vittime, ha detto, e per quanti sono impegnati nella prestare soccorso. Papa Francesco ha incontrato sabato scorso, 27 febbraio, i partecipanti al giubileo degli industriali in Aula Paolo VI. Per la prima volta in 106 anni la Confindustria italiana ha incontrato un pontefice. Non c'è etica del fare impresa che tenga né discussioni alte sui valori del lavoro se esse non sono in grado di dare una risposta a un padre di famiglia angosciato per non riuscire ad assicurare un futuro e nemmeno un presente ai propri figli. Il pensiero sociale di Francesco è ben noto. L'Evangelii Gaudium e la Laudato Si hanno ampiamente chiarito cosa il Papa pensi quando si parli del rapporto uomo-economia. E i due documenti sono le sponde fra le quali Francesco procede per rivolgersi alle migliaia di grandi e piccoli imprenditori che riempiono l'Aula Paolo VI. Il giubileo di questa categoria vuole riflettere stimolato dall'espressione fare insieme. Il Papa ha suggerito una lettura. fare insieme vuol dire infatti impostare il lavoro non sul genio solitario di un individuo ma sulla collaborazione di molti. Significa in altri termini fare rette per valorizzare i doni di tutti senza però trascurare l'unicità irripetibile di ciascuno. Al centro di ogni impressa vi sia dunque un lomo. Non quello astratto, ideale, teorico ma quello concreto con i suoi sogni, le sue necessità, le sue speranze, le sue fatiche. E queste speranze e queste fatiche hanno una faccia, affermato Francesco, quella delle famiglie, degli anziani, quella dei giovani e di tutti quei potenziali lavoratori prigionieri della precarietà o di lunghi periodi di disoccupazione. Fare impresa, sostiene il Papa, vuol dire impegnarsi per queste categorie. Significa dare a ciascuno il suo, strapando madri e padri di famiglia dall'angoscia di non poter dare un futuro e nemmeno un presente ai propri figli. Significa saper dirigere ma anche saper ascoltare, condividendo con umiltà e fiducia progetti e idee. Significa fare in modo che il lavoro crei altro lavoro, la responsabilità crei altra responsabilità, la speranza crei altra speranza, soprattutto per le giovani generazioni che oggi ne hanno più che mai bisogno. Dunque è stato l'appello del Papa agli industriali, siate coraggiosi voi che avete una nobile vocazione orientata a produrre ricchezza e a migliorare il mondo per tutti e non lasciate che trovarsi a fare insieme resti solo uno slogan, ma piuttosto un programma per il presente e il futuro. Siate, ha indicato loro, costruttori di bene comune e artefici di un nuovo umanesimo del lavoro. La vostra via maestra sia sempre la giustizia che rifiuta le scorciatoie delle raccomendazioni e dei favoritismi e le deviazioni pericoloso della disonestà e dei facili compromessi. La legge suprema sia in tutta un'attenzione alla dignità dell'altro, valore assoluto e indisponibili. Sia questo orizzonte di altruismo a contraddistinguere il vostro impegno. Esso vi porterà a rifiutare categoricamente che la dignità della persona venga calpestata in nome di esigenze produttive che mascherano miopie individualistici, tristi egoismi e sette di guadagno. La bussola che orienta l'attività produttiva, ha concluse il Santo Padre, sia in una parola il bene comune perché cresca un'economia di tutti e per tutti, che non sia insensibile allo sguardo dei bisognosi. Sabato mattina nel Palazzo Apostolico Vaticano Papa Francesco ha ricevuto il Presidente della Repubblica Argentina Maurizio Macri, che poi ha incontrato il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato. Nel corso dei cordiali colloqui che manifestano il buono stato dei rapporti bilaterali esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica Argentina, riferisce la Sala Stampa Vaticana, sono stati trattati temi di mutuo interesse, come l'aiuto allo sviluppo integrale, il rispetto dei diritti umani, la lotta alla povertà e al narcotraffico, la giustizia, la pace e la riconciliazione sociale. In tale contesto è stato ribadito il contributo positivo soprattutto nell'ambito della promozione umana e della formazione delle nuove generazioni, offerto dall'Episcopato e dalle istituzioni cattoliche nella società argentina, particolarmente nell'attuale congiuntura economica. Infine non si è mancato di far riferimento ad alcuni temi di maggiore entità ed interesse in ambito regionale e mondiale. Il Papa ha donato al Presidente argentino un medaglione sulla pace, la sua enciclica Laudato Si e l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Macri ha regalato alla Pontefice una croce che ricorda l'evangelizzazione dei gesuiti in Argentina, un poncio e alcuni cd di musica argentina. Sabato mattina nella chiesa di Santo Stefano degli Abissini, in Vaticano, si sono svolte le esequie di Miriam Voldu. La giovane italiana di origine eritrea lavorava alla reception a casa Santa Marta. Malata di diabete è stata ritrovata morta nei giorni scorsi nella sua abitazione a Roma. Prima della celebrazione Papa Francesco si è recato nella chiesa, come riferito dal direttore della Sala Stampa Vaticana, padre Federico Lombardi, per sostare in preghiera di suffraggio per la defunta, dimostrando il suo affetto e il suo rispetto per questa cara collaboratrice della casa Santa Marta. Il Papa è rimasto in preghiera silenziosa per circa 20 minuti e ha deposto un mazzo di 12 rose bianche. Lì dove i ragazzi combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita. Papa Francesco ha visitato venerdì pomeriggio a sorpresa la comunità di recupero per tossicodipendenti San Carlo del Centro Italiano di Solidarietà, il CEIS, fondato da Don Mario Picchi. La struttura si trova nei pressi di Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Si è trattato di un altro segno giubilare di testimonianza delle opere di misericordia per l'anno santo in corso. Il Papa, accompagnato da Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio, per la promozione della nuova evangelizzazione, si è intrattenuto per circa due ore con i 60 ospiti, il personale e i volontari del centro terapeutico. Al termine della visita alla comunità, dove già in passato erano stati il Beato Paolo VI e San Giovanni Paolo II, Francesco ha donato ai presenti un'immagine della Madonna di Lujan realizzata con un foto mosaico. Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data del 29 febbraio-1 marzo 2016. Decine di migranti stremati forzano il confine tra Grecia ed ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. Disperazione e rabbia. A Calais, iniziato lo sgombero della giungla, mentre si apre un corridoio umanitario con Roma. Bombe su Aleppo, ma la tregua regge possibilità di una svolta. All'Angelus il Papa chiede una risposta corale al bisogno di accoglienza e saluta con speranza lo spiraglio di pace aperto in Siria, davanti al dramma dei profughi. Con il patriarca ortodosso etiopico ecumenismo dei martiri. Domani il mensile Donne che predicano.